Buonasera e bentornati al Palio d'Inverno. Questa sera iniziamo parlando delle modifiche al protocollo equino che sono state presentate e illustrate ieri sera a Palazzo Pubblico da parte del sindaco Luigi De Mossi sia ai 17 capitani che ai proprietari di Cavalli d'Appalio. Presenti all'incontro ovviamente i due presidenti delle due associazioni del territorio Andrea Calamassi presidente dell'associazione proprietaria allenatori e allevatori di Cavalli d'Appalio e Luigi Carli presidente dell'associazione Anglo-Arabo Corse che questa sera sono qua con noi. Grazie mille. Buonasera. Grazie a voi. Buonasera. Buonasera. Allora iniziamo da quelle che sono diciamo le novità più importanti che ieri vi ha presentato il sindaco tra l'altro sono state approvate proprio oggi dalla giunta comunale e appunto che riguardano. Intanto una delle novità che diciamo era quella penso più attesa anche per voi cioè di un diciamo un intervento verso quei diciamo coloro che non diciamo presentano il cavallo che viene iscritto al protocollo. una modifica che era stata diciamo già un po' annunciata soprattutto dopo quello che era avvenuto nel palio di luglio. Quindi diciamo la modifica riguarda il fatto che se un cavallo iscritto al protocollo non viene presentato diciamo parte una sospensione sia per l'anno in corso che per i due anni successivi. Andrea partiamo partiamo da te. Cosa cosa ne pensate e cosa ne pensi di questa modifica? Dunque le modifiche tutto sommato sono positive. Una modifica questa in particolare è una modifica giusta dove diciamo così viene tutelato anche il cavallo e il proprietario perché se la verità è che un cavallo ha un problema si può esibire un certificato medico oppure la commissione veterinaria può richiedere la presenza del cavallo per essere visitato in merito al problema per il quale non viene presentato. Quindi diciamo così è una tutela per le contrade per il palio e per la quantità di cavalli che vengono presentati. Luigi cosa ne pensi? Sì sì anche io sono abbastanza allineato. Chiaramente qualora il cavallo fosse effettivamente stato afflitto da un problema fisico non è che l'esclusione automatica viene visitato dalla commissione veterinaria. Chiaramente se una volta che il cavallo viene chiamato per essere visitato e non si presenta scatta automaticamente la squalifica. ritengo appunto che sia una conseguenza di quanto è successo durante il palio di luglio e come hai detto in premessa era un po' nell'aria perché sinceramente si pensava come poi è accaduto che qualche contromisura il comune la prendesse. Quindi se ricordiamo a luglio tanti cavalli non furono portati alle previsite, fu una giornata ricca di assenze e poi alcuni di quei cavalli ad agosto ci sono stati portati. Ecco questo non sarebbe possibile con questa nuova modifica. Quindi insomma un intervento abbastanza diretto su questo. Molto diretto, efficiente e efficace. Allora sentiamo proprio quello che ha detto il sindaco De Mossi ieri a Palazzo Pubblico, subito dopo la riunione con voi proprietari perché prima si sono ritrovati 17 capitani e subito dopo appunto i proprietari dei cavalli d'appaglio. Appunto anche il sindaco è sembrato diciamo soddisfatto di quanto ha illustrato perché non ci sono stati particolari problemi. Sentiamo cosa ha detto. Ho espresso quelle che erano diciamo le modifiche che abbiamo intenzione di fare e che domani portiamo in giunta. Tutto qui i capitani mi sembra fossero tutti assolutamente d'accordo sotto questo profilo e perlomeno non ci sono state osservazioni al riguardo. E lo stesso i proprietari mi sono sembrati soddisfatti diciamo della proposta che noi abbiamo avanzato. Quindi credo sia insomma una cosa abbastanza pacifica. Ho voluto farlo per la delicatezza diciamo dell'evento e anche per la condivisione e per il coinvolgimento sia delle contrade che dei... Eccole qua. Quindi tutti tutti d'accordo diciamo su questo punto che poi sicuramente appunto era anche la modifica più attesa e uno dei punti principali. Però c'è anche altro perché appunto è arrivata la nota stampa proprio oggi da parte del Comune su quello che è stato approvato oggi in giunta. E quindi chiaramente ci sono altri punti all'interno del protocollo che quindi sono stati anche un po' rivisti e poi adesso approvati. Quindi riguardano appunto il fatto che una volta effettuata la previsia di ciascun palio il cavallo non possa più partecipare a nessuna attività sportiva. In caso se no verrà appunto sempre... potrà riscriversi appunto al protocollo nemmeno i due anni successivi. Questa era una cosa che più o meno c'era però diciamo... Anche prima è stata ancora più puntualizzata e ridotta nei tempi. Che prima mi sembra che era nei 15 o 20 giorni prima che non potevano partecipare alle corse normali o di riunioni di galoppo o altri pagli. E adesso invece è proprio ridotta dalla previsita in poi. Anche un intervento comunque per la tutela diciamo... Certo, ci mancherebbe. ...della festa e anche del cavallo ovviamente. Qui poi si parla anche della giustificazione sanitaria di cui parlavamo prima per esonerare appunto il cavallo in caso appunto non venga presentato. In caso poi non si presenti a tale visita questo verrà comunque escluso da tutte le fasi del palio. E poi si parla ovviamente anche del contributo economico. Luigi è un contributo economico di cui appunto il Comune aveva già parlato precedentemente di sponsorizzazioni. Sì, ha parlato di questa iniziativa del Comune di cercare delle sponsorizzazioni per mettere dei rimborsi spesi o comunque dei piccoli premi in palio per le corse che si disputeranno sia a Mosciano che a Monticiano. E può essere anche legato al discorso del serio impegno perché chiaramente magari avendo anche un piccolo premio da poter ottenere se un cavallo vince una corsa. Quindi il discorso poi del serio impegno può essere integrato in questa iniziativa. Sinceramente ecco tutto quello che può venire incontro a alleviare un po' di spese dei proprietari che hanno durante tutto l'anno per la gestione del cavallo è ben accetto. Quindi secondo me questa è un'iniziativa lodevole, va bene, speriamo magari di questo non se ne è parlato che l'importo di questi incentivi sia adeguato per appunto almeno contribuire in parte a tutte le spese che sostengono i proprietari durante l'anno. Andrea Calamassi, ne abbiamo parlato spesso, se ne è parlato spesso no? Per quanto riguarda i proprietari e quindi i contributi ai proprietari. Quindi cosa ne pensate di queste sponsorizzazioni? La sponsorizzazione è una cosa ottima, se può rientrare anche in minima parte delle spese un proprietario è sempre un'ottima cosa. Logicamente ricordiamoci che l'impegno paliesco per i proprietari è sempre stato esclusivamente un onore perché non c'è mai stato rimborso. I tempi purtroppo sono cambiati e come ripeto se arriva un qualche cosa che può integrare tutte le spese che sono quelle per mantenere un cavallo nell'arco di un anno e portarlo alle previsioni in ottime condizioni e ben venga se c'è un po' di denaro in più. Ieri credo che abbiate parlato con il sindaco anche degli appuntamenti con le corsi di addestramento che sono stati confermati a 10 appuntamenti. Proprio dopo la riunione ci hai detto che avete richiesto una particolare attenzione per le piste di addestramento, giusto? Sì, certo. Diciamo che fa parte tutto l'insieme della situazione, del protocollo. Se si chiede il serio impegno, se vogliamo vedere cavalli e se vogliamo la tutela del cavallo e quindi anche del proprietario, se ci sono delle piste adeguate dove si può galoppare con serenità, senza rischi, poi le fatalità logicamente non si possono prevedere né parare, però ecco se c'è una pista dove si può galoppare con tranquillità, come vogliono la commissione veterinaria, come piacciono anche a un proprietario, perché poi in fin dei conti a un proprietario piace vedere vincere il cavallo, insomma, oltre che andare bene, e se la pista è adeguata è tutto un insieme di cose e è un cerchio che si chiude. Ecco, noi tra l'altro abbiamo fatto insieme a Viola Carignani proprio, diciamo, un servizio su questo, non so se lo avete visto, per quanto riguarda appunto la pista di Mociano, no? Quindi le condizioni in cui si trova in questo momento, che chiaramente non sono tra le migliori, dato chiaramente molto anche dalle condizioni meteorologiche di questo periodo. Ecco, secondo te bisognerebbe intervenire un po' prima, bisognerebbe fare una diversa manutenzione? Allora, questo dipende dal nostro signore se ha attenzione di far smettere di piovere o il brutto tempo. Ma non è un problema di questa amministrazione, il problema si protrae da tantissimo tempo. E purtroppo... Vediamo le immagini. Ecco, purtroppo il maltempo c'è sempre stato e la pista è sempre stata, tra virgolette, distrutta. E logicamente quando ci si mette mano, quando ci si mette mano, ci vuole personale qualificato che sappia dove mettere le mani per renderla omogenea. Oltremmo direbbe anticipare un po' questa cosa o no? Ma anticipare dipende anche dal percorso meteorologico, come la stagione, perché uno può anticipare, ripiove e diventano soldi buttati via. Quindi cerchiamo di dare un colpo alla botte perché tutto venga effettuato in tempi giusti e in maniera ottima, sempre da personale che sappia dove mettere le mani. Luigi, dieci appuntamenti sono abbastanza secondo te per i cavalli? Ieri, mentre sarà la riunione col sindaco, sono stati chiesti anche la possibilità di effettuare qualche altra riunione. Se ho capito bene, si parlava di Pian delle Fornace di Monteroni. Quindi magari non sono così strettamente legati al palio, ma può far parte una corsa a Pian delle Fornace a Monteroni di un percorso di addestramento di un cavallo, magari su una pista all'inizio un po' meno impegnativa e poi dopo per avvicinarsi per gradi a piste magari un pochino o a percorsi più simili a Piazza del Campo. Quindi questa richiesta c'è stata. Ecco, si partirà verso marzo? Della data non lo so, non se ne è parlato. Comunque probabilmente il periodo sarà quello. La linea di massima è quello. Il solito è così. Ecco, vi sono parlato di Pian delle Fornace. Pian delle Fornace è un tema di cui avevamo anche riparlato con la vostra associazione. C'era un po' l'idea, il progetto su questo luogo che conosciamo tutti molto bene. Sì, Pian delle Fornace è di nuovo venuto fuori anche ieri sera durante la riunione. È un progetto, è un'idea che il sindaco ha in cuore da diverso tempo. Chiaramente prevede un impegno economico non indifferente perché di idee ce ne sarebbero tante. Ce n'ha anche un po' parlato ieri sera. Però a fronte di tante idee c'è da mettere sul conto anche un forte impegno economico. Quindi vediamo cosa si può fare. Sicuramente in questo momento quella è la struttura geograficamente più vicina a Siena. Perfetta direi. Sarebbe quella più adatta per un utilizzo anche a 360 gradi sia sulla piazza del campo magari anche come addestramento per le corse regolari. Sarebbe veramente un impianto polivalente secondo me. I proprietari sono d'accordo? Certamente. A noi è parecchio anche noi lo diciamo che ci manca una pista dove ci sia un terreno per poter lavorare in tranquillità sempre. Facevo così, buttavo un'idea stranissima. Il 26 dicembre nessuno c'ha da fare niente. Anziché andare al cinema c'è tre corsi a piandere fornace e il terreno lo permette. Era per passare la serata e poteva essere una situazione così strampalata. Però per rendere un po' l'idea di sempre. C'è da lavorarci un po' su questo tema. C'è da lavorarci. Allora un altro tema invece appunto ritornando a parlare proprio nel dettaglio delle modifiche che vi ha presentato ieri il sindaco riguarda appunto una novità che forse era meno attesa rispetto a quella che riguarda appunto la sospensione per la mancata presentazione dei cavalli cioè quella che riguarda una commissione formata da tre veterinari indicati dai capitani delle contrade che affiancheranno la commissione tecnica comunale. L'obiettivo di questi tre veterinari sarà quello di appunto andare a valutare i cavalli nuovi. Vediamo appunto però cosa ne pensano i capitani che anche loro appunto non si aspettavano molto probabilmente questa novità da parte del sindaco. Noi abbiamo sentito proprio oggi quindi proprio dopo la riunione di ieri sera il decano dei capitani Marco Antonio Lorenzini. Sentiamo l'intervista. Sì effettivamente c'è questa proposta, questa novità di un'integrazione da parte delle contrade di tre nominativi di veterinari che andrebbero a collaborare con la commissione veterinaria esclusivamente per quanto riguarda, se abbiamo capito bene, i cavalli nuovi per quanto riguarda i lavori di Mociano e per le corse di Monticiano. Ecco questa è stata una novità per voi capitani giusto? Cioè non ve l'aspettavate diciamo questa novità? No no assolutamente no perché come ho detto neanche ieri non è che ci è stato preannunciato quale poteva essere l'argomento della serata e quindi ci sono stati esposti tutti i vari aspetti del protocollo fra i quali anche questa diciamo questa innovazione. Ecco che dovrebbe riguardare quindi veterinari di contrada, quindi tre veterinari tra le 17 contrade giusto? Esattamente sì sì, ci è stato chiesto di eventualmente fornire questi tre nominativi lasciando ai capitani appunto questa incommenza e questa possibilità. No no, non è assolutamente obbligatoria, è una cosa che ci è stata messa a disposizione e basta ecco, non c'è alcun tipo di obbligo ovviamente. Quindi adesso diciamo ne dovrete parlare? Sì sì sì, ne parleremo poi con calma settimana prossima e valuteremo un attimino insomma come fare. Queste le parole del decano dei capitani Marco Antonio Lorenzini, appunto i capitani si ritroveranno all'inizio della prossima settimana quindi fra pochi giorni, una riunione che era già fissata da tempo e ovviamente parleranno anche di questa novità che coinvolge direttamente le contrade perché questi sono chiamati a scegliere tre veterinari che appunto andranno ad integrare il lavoro della Commissione Comunale. Una novità anche per voi questa è stata? Cioè non ve l'aspettavate? Andrea, è uguale. Per quanto mi riguarda proprio no perché insomma magari ecco l'altra novità, si capisce i motivi per cui è stata fatta questa. Sinceramente io non me l'aspettavo e ne parlavamo prima con Andrea. Ci piacerebbe capire come verranno scelti questi tre veterinari perché insomma poi alla fine è vero che poi andranno a lavorare su un tema che secondo me non inciderà direttamente sullo svolgimento del palio perché si parla di cavalli nuovi, quindi cavalli futuribili. Cavalli nuovi cioè quelli che non hanno ancora preso parte alla tratta. Esatto, quindi questo è stato specificato ieri sera, si parla di cavalli nuovi e che quindi probabilmente diciamo tracceranno il futuro dei cavalli da lì ai prossimi anni. Non sono quelli che saranno scelti. Esatto, quindi. Quei dieci. Però ecco questa piccola curiosità ce l'abbiamo. Andrea cosa ne pensi? È una buona cosa perché quando si prepara un terreno così per il futuro e si cerca di organizzare è sempre una buona cosa. Certamente come si diceva con Luigi vorremmo vedere come si fa a scegliere questi tre professionisti. Per me potrebbe essere anche semplice perché per carità si prende personaggi di alta qualità. devono essere a quello che almeno è stato detto veterinari credo delle contrade. Io ho capito una commissione fatta veterinari nominati da tutte e 17 le contrade. Quindi non è importante che siano fatti. Potrebbero entrare dentro anche qualcuno di contrada. Molto bene dal protolo perché dice integrano tre veterinari indicati dai capitani delle contrade. Esatto. Che non dovrebbero. Secondo me lascia questa cosa qui lascia il campo libero. Nel senso a discrezione delle contrade. Anche non quei 17. Secondo me per trovare una condivisione forse sarebbe più opportuno non andare a pescare fra un veterinario di contrade. Beh c'è questa possibilità sicuramente. Ma andare su tre professionisti che non sono già legati alle contrade magari scelti a dopo per fare questa cosa qua. Sì se c'è questa possibilità sì. Credo comunque che a quello che ha detto il decano in realtà questa è una possibilità che le è stata data dal comune. Vediamo loro cosa decideranno poi i capitani. Non so bene come diciamo decideranno di gestirla questa cosa perché anche appunto come stavate dicendo chiaramente non è semplice poi mettere d'accordo tutti e arrivare a tre nomi. Dipenderà chiaramente anche se saranno come stavamo dicendo anche nomi esterni. Questo non è insomma vedremo la settimana prossima cosa decideranno. Sicuramente è un tema di cui si tornerà a parlare. Sicuramente. Perché insomma mette un po' di... Zizzania. Sì no un po' di difficoltà perché comunque poi sappiamo insomma che chiaramente decidere e trovare dei nomi non è così semplice quando si è in tanti no? Ma che devo dire io penso potrebbe essere molto più semplice poi se uno cominciamo a puntare i piedi a mettere dei paletti allora però in una cosa del genere che poi anche come ha detto il sindaco la decisione finale rimarrà sempre alla commissione veterinaria comunale. Quindi sono delle indicazioni che questi tre professionisti porteranno alla commissione veterinaria. Ma secondo voi com'è nata questa idea? L'idea è nata e dovuta al palio di luglio del 2022. Tutto a quello è dovuto. Anche lì io ho delle idee molto strane perché nel senso perché il palio bisogna tener conto moltissime volte e spesso di cose già avvenute, di quello che è il percorso del palio. Se noi andiamo ad analizzare i pali passati sono successi pali strani tra virgolette nella scelta dei cavalli. Che posso dire? Se si va a fare un esempio il palio ora io mi ricordo se era agosto 80 dove addirittura venne preso Putnik e vinse Guana del Echereo che era il cavallo migliore del lotto e c'erano dei cavalli che non erano dei cavalli. Erano, non lo so, lasciamo perdere le potenze, non erano cavalli adatti. Cavalli esperti, ok. Però c'è stato fatto il palio, c'è stato fatto il palio, la chiocciola con Ascaro, il nicchio con Putnik che si sono trovati davanti a lottare il palio. Poi logicamente il cavallo di qualità è venuto fuori che era Guana del Echereo. Però sono stati adoperati cavalli non di altissima qualità. E quindi inserire una commissione formata dalle contrade come... Sì, aiuta. Diciamo che nel periodo di adesso aiuta. Però prima c'era molta più qualità in chi sceglieva cavalli e tante altre cose. Quindi proprietario dei cavalli è a favore su questa cosa? Ma io... Non contrario. No, io non contrario, penso che sì, perché poi se scegli tre professionisti, scusate il termine, ma con le palle quadrate logicamente non vanno a dire una cavolata, dicono una cosa giusta. Poi logicamente anche un proprietario dovrà tenerne conto, perché poi ci potrà essere anche il periodo per poterlo rimettere a posto, modificarlo, addestrarlo. Luigi non si è d'accordo? No, no, no. Quello che pensavo io è che sinceramente l'amministrazione comunale probabilmente ha voluto mettere in atto delle contromisure, poi dopo sarà il tempo che ci dirà se sono azzeccate oppure no, perché quello che è successo nel palio di luglio magari non risucceda. Perché sinceramente da senese vedere un palio corso da sei contrade è stata... Specialmente dopo due anni che non si è corso il palio è stata una cosa un po' triste, passatemi questo termine. E forse evitare anche il tutti contro tutti, ecco, soprattutto anche quello. E quindi poi dopo appunto le valutazioni magari rifaremo sul medio e lungo termine, magari ci sarà da mettere a posto qualcosa, ma diciamo l'input, i motivi che hanno spinto l'amministrazione comunale a fare queste cose secondo me sono condivisibili perché sinceramente, insomma, ecco, è uno spettacolo, eccolo, ce lo state riproponendo. E lo vediamo. Che sinceramente non si vorrebbe rivedere, ecco. Allora, cambiamo un altro argomento per quanto riguarda, Luigi, ne vuol parlare un attimo con te, la rassegna, no? La rassegna che avete organizzato in Fortezza, che è stato insomma un grande successo, una prima edizione che guarda al futuro, no? Ne avete riparlato con il sindaco, con l'amministrazione comunale? Quali sono un po' i progetti per il prossimo anno? Sì, sì, guarda, è proprio di questi giorni la nostra richiesta al Comune di poter organizzare la seconda edizione. Vorremmo anticipare qualche giorno rispetto alla data dell'anno scorso per evitare la concomitanza con la Fiera Cavalli di Verona che ci ha levato un po' di pubblico per la rassegna. E comunque, niente, ti confermo quanto stavi dicendo a te che la prima edizione è stata un successo, che vogliamo riproporre, vorremmo cercare anche magari se possibile di allargare un po' gli orizzonti, però ecco, ci sono stati riconoscimenti su questa manifestazione, su questa iniziativa a livello sia cittadino ma anche fuori dalla città di Siena e quindi questo ci ha spinto volentieri e con molto vigore a provare di organizzare la seconda edizione magari anche con delle migliorie rispetto alla prima, magari un po' più avanti quando avremo le idee un po' più chiare, quando insomma anche se l'amministrazione comunale ci darà il suo ok, ve le presenteremo, le condivideremo. Quindi si sta continuando a lavorare per questo. Certamente, certamente. Allora, tra l'altro parlando di appunto proprio anglo-arabo, ci sarà proprio una conferenza domani anche a Castel del Piano. Andrea, andrai te? Sì, mi hanno invitato, quindi andrò a fare presenza, sentirò quello che verrà detto. Bello, è importante, no? No, 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 sul mondo dell'anglo-arabo mi sembra verso i primi dieci giorni di dicembre c'è stata un'altra conferenza a Bomarzo e adesso ce n'è una a Castel del Piano, quindi insomma il tema è di attualità. In questi giorni stiamo avendo anche dei colloqui con le nostre associazioni omologhe che ci sono in Sardegna, il mondo dell'anglo-arabo è in espansione, è vitale, è pieno di passione e merita di essere coltivato a tutti i livelli, sia per il suo impegno a livello di pali, rievocazioni storiche, sia per gli impegni in ippodromo, ma poi l'anglo-arabo è un cavallo versatile, è polivalente, può essere impegnato sull'endurance, sul salta ostacoli e quindi secondo me c'è tutte le premesse, tutti i presupposti per essere un cavallo che da qui ai prossimi anni deve usufruire e avere un ulteriore sviluppo rispetto a quello attuale. Ecco, per concludere, prima di salutarvi, quindi le due associazioni collaborano? Sì, ma senz'altro, ma ci mancherebbe, gli intenti sono sempre gli stessi. Più il cavallo a Siena viene portato in alto e meglio è. Per dare anche dimostrazione del nostro amore nei confronti della festa e del cavallo, che è quello che poi ci fa gioire in fin dei conti. E quindi più lo teniamo di conto, più lo esaltiamo, più lo portiamo come esempio e meglio è. Quindi penso che sicuramente ci mancherebbe altro che non si sia collaborativi. Poi Veronica, allora due considerazioni. Una, tanti dei soci dell'associazione di Andrea sono soci nostri, tanti soci nostri sono soci, alla fine poi chi c'ha cavalli, tanti cavalli corrono sia all'ippodromo che in piazza del campo e quindi è normale che ci sia una forte intersezione fra le due associazioni. Giustamente quello che ha detto Andrea, gli interessi e gli scopi sono comuni e quindi è assolutamente opportuno collaborare. Terza cosa, in tante iniziative, in tante manifestazioni, l'unione fa la forza, più siamo, più la nostra voce si fa sentire. E io la metto per ultima, ma non è una cosa ultima, insomma anche passamelo, se si può, l'intesa personale fra due presidenti c'è, quindi la collaborazione... Anche quella è importante. Anche quella è importante. Allora io vi ringrazio, vi auguro buon lavoro, perché insomma si entra nella primavera, che è poi un periodo ricco di appuntamenti per il mondo dei cavalli, quindi grazie ad Andrea Calamassi e Luigi Carli per essere stati con noi e invece noi ci fermiamo e torniamo tra poco. Torniamo al palio d'inverno e parliamo di nuove opportunità per gli allevatori senesi che per la stagione di monta che comincerà a febbraio potranno contare su ben sei stalloni di alta qualità. Lunedì infatti alla scuderia Melissa Cipriani si è tenuta la presentazione dei puro sangue riproduttori disponibili anche per l'incrocio con il mezzo sangue. Per noi c'era Viola Carignani. A breve si apre la stagione di monta per i cavalli da corsa. Pochi giorni fa la presentazione di ben sei stalloni puro sangue inglese che lavoreranno presso due stazioni di monta della Senese, quella della Berardenga e Renaccino. Pedigridi alto livello che potranno essere interessanti anche per gli incroci con fattrici anglo-arabe. Ci saranno cinque stalloni qua da noi alla Berardenga mentre Cappella San Severo lavorerà a Renaccino. Tutti i cavalli sono disponibili anche per le mezzo sangue quindi vi invitiamo a venire qua da noi in allevamento e vi presenteremo i nostri stalloni. Quest'anno avremo Ruler of the World, è l'ultimo anno che rimarrà qua da noi quindi vi invito a sfruttare questa possibilità. Poi avremo Oli Ballet, figlio di Shamardal e Oli Mulda quindi una buonissima genealogia specialmente dalla parte femminile e poi avremo Morpheus, fratello di Frenkel e poi El Kabir, la grande novità di quest'anno. Quindi vi invito a venire qua in allevamento, parlate con me, abbiamo anche due fattrici in vendita tra l'altro una gravida di Cappella San Severo e una gravida di Ruler of the World quindi se vi può interessare vi aspettiamo qua alla Berardenga. Quanto è difficile riuscire a mantenere una stazione di monta a questi livelli e come sta andando il mercato del pura sangue inglese o comunque in generale del cavallo da corsa per quanto riguarda appunto la parte allevatoriale? È un mercato molto difficile, chiaramente ci sono sempre numeri minori di fattrici in Italia, però cerchiamo sempre di ravvivarlo abbiamo ogni anno degli stalloni diversi da proporre agli allevatori italiani e quindi questa possibilità è molto importante perché ci permette di andare avanti con il settore rinnovare i nostri pedigree e quindi dare una possibilità agli allevatori questo è soltanto l'inizio e speriamo da qui di ripartire con l'allevamento italiano in più abbiamo fatto anche una collaborazione con l'Istituto Agrario per fare un corso per artieri anche quello è una parte importantissima quindi si parte dalle basi, dall'allevamento, dagli artieri che sono le persone che stanno più vicine ai cavalli e quindi che devono far sì che i nostri cavalli stiano bene sono le persone che li conoscono più di tutti quindi da lì ripartiamo e speriamo da ora in avanti andare sempre in salita Allora Guido Berardelli da dove arriva la scelta di portare questi stalloni in Toscana e a Siena? La scelta è sicuramente, lo potete vedere poi dalle immagini che avrete girato è perché è uno dei posti più belli del mondo sicuramente dove sono cresciuti i cavalli più importanti di sempre c'è sempre tanto sole è un posto che è anche molto strategico perché ovviamente stando al centro dell'Italia ci permette di coinvolgere allevatori del nord, della Toscana del centro ma anche del sud perché abbiamo anche belle richieste dalla Sicilia e anche dalla Sardegna e addirittura abbiamo due fattrici da Malta e anche alcuni allevatori che si stanno interessando ma almeno 5-6 fattrici dalla Germania soprattutto per Ruler of the World che loro cercano linee da distanza il posto, la Berardenga è un posto meraviglioso è un posto che permette veramente con questi prati di allevare i cavalli al meglio i cavalli stanno benissimo noi abbiamo un rapporto ottimo con Melissa Cipriani che ormai va avanti da anni le stagioni di monta sono andate sempre molto bene perciò abbiamo continuato su questa via Qual è l'obiettivo? Quante fattrici? Noi abbiamo fatto il record italiano con Magician a 134 coperture pensiamo che con il Kebir si potrebbe anche aumentare questo record perché il cavallo piace troppo è un cavallo incredibile però gli altri stalloni non sono da meno Morpheus e Ruler of the World sono due stalloni veramente attrattivi per questo palcoscenico e anche Cappella San Severo che sta a Renaccino sta qui vicino a una decina di chilometri perciò la zona è sempre fantastica e il cavallo pure dà cavalli molto precoci io spero tra tutti insieme di arrivare a 250-270 a monte Qual è la percentuale che vi aspettate per quanto riguarda il metriciamento con l'anglo-arabo? Perché qua c'è una grande tradizione di anglo-arabo Ma noi abbiamo un grandissimo rapporto con l'associazione io sono venuto pure a Siena come giudice nella fortezza in quella manifestazione stupenda dove abbiamo peraltro pure pranzato abbiamo un ottimo rapporto con tutti gli allevatori dell'anglo-arabo perciò sono benvenuti, li abbiamo invitati tutti sono contento che siano venuti in massa e adesso piano piano si sta incrementando questo rapporto di joint venture con loro e sono molto contento di questo Andiamo a scoprire uno per uno quali sono gli stalloni che saranno presenti qua alla stazione di monta della scuderia di Melissa Cipriani e cercando di capire anche quali sono i più adatti per il metriciamento con l'anglo-arabo Gli stalloni saranno sei? Qua l'abbiamo visto questa mattina l'avete visto anche nelle immagini che sono state girate Dunque, Elkebeir era quello più atteso era un pochino il reuccio se vogliamo dire dell'asta un figlio di Scadedi che ha un pedigree americano Scadedi è un po' il futuro per quanto riguarda l'ipica europea è uno salone che è mancato mi piace molto al Coolmore il Coolmore punta molto su questi Scadedi e quindi ecco Elkebeir probabilmente il prossimo anno non sarà nemmeno più in Italia difficilissimo averlo in Italia posso dirlo? forse è troppo buono per un mezzo sangue troppo speed troppa qualità Morpheus è il fratello di Frankel vi dico solo un numero 275.000 sterline sono 300.000 euro più le spese il viaggio il veterinario bla 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 se volete un figlio di Frankel questo è il fratello Federico Tesio ha creato Nearco scegliendo un fratello di perché no? tanta qualità sono cavalli tardivi nel senso non sono cavalli da due anni i Morpheus ha molta qualità che deve uscire però la madre ha dato un cavallo che è il più forte che quello degli ultimi vent'anni in Europa al galoppo cioè siamo a top level ruler of the world ha vinto il derby di Epsom anche lì purtroppo devo citare o se preferite il senatore Federico Tesio che ogni anno viene riportata la frase di Federico Tesio che è soltanto il palo di arrivo quel pezzo di legno al termine dell'addirittura di Epsom fa la selezione tutto il resto è chiacchiere è come se voi al palio di Siena avete la selezione vostra è per quel cavallo che fa tre giri in 55 secondi è quella è quella la selezione non è che ci sono tanti discorsi potete fare qualsiasi cosa però la selezione è quella lì e le corse si vincono in pista ruler of the world ha vinto è molto bello è un sauro bilanciato forse un pochino lungo se vuoi trovargli un minimo difetto morfologico però ha dato un vincitrice di gruppo 1 in Europa anche qua si parla di selezione la selezione è questa qua arriviamo secondo me ai tre stalloni che possono essere adatti agli anglo-arabi Holly Ballet la mamma è Holly Moon che è una cavalla la migliore fattrice italiana negli ultimi vent'anni ha dato sì sia of class che ha perso un'arche di triomphe tragico lo troverete su youtube andate a cercarlo perché ha perso una cosa tra l'altro ha trovato anche in Ebol che è una campionessa assoluta quindi è stato anche un po' sfortunata è un bel cavallo equilibrato e poi mi dicono tutti gli allenatori che ha molta testa è uno stallone che trasmette molto equilibrio sono cavalli intelligenti sono cavalli corridori quindi potrebbe essere perché non ho un'idea non sono da due anni però per l'anglo-arabo non corre nemmeno da due anni quindi mi sembra più che corretto Mister Vegas è l'altro che ha più fondo ha molto più fondo è un cavallo tardivo anche lui ha qualità ha pulito morfologicamente non trasmette difetti potrebbe essere perché non e poi Cappella Sansevero che è invece il più speedy è proprio un pedigree veramente mamma da Royal Applaus che è il padre di Acclamation e lui è un cavallo che veramente ha due anni e mezzo corri forse è un pochino troppo avanti per un anglo-arabo dovessi consigliare per l'anglo-arabo io direi Holly Ballet Mister Vegas e Morpheus in ordine di preferenza se poi avete risorse voglia denaro passione lo so che non avete la passione e il Kabir è un pochino il sogno proibito ruler of the world beh date un vincitore di derby di Epson quindi fate voi questa è la classica selezione e torna domenica il primo palio dell'anno il palio di Buti seguito anche ovviamente da tantissimi senesi tanti gli eventi in programma in questi giorni prima della corsa che si correrà domenica ne abbiamo parlato con il sindaco Arianna Buti il primo palio dell'anno è pronto a tornare come di consueto Buti apre la stagione con il palio che si correrà questa domenica alle 14.30 nella prima batteria come determinato dal sorteggio ci saranno la croce con Alessandro Fiori San Rocco con Gianluca Di Leo e San Nicolao con Silvano Mulas nella seconda San Francesco con Gavino Sanna Pievania con Antonio Siri e Ascensione con Michel Puzzo la terza vedrà San Michele con Alessio Mighelli e le seconde classificate delle prime due corse Nel primo palio dell'anno Abuti fervono i preparativi è un mese il mese di gennaio dove nel resto d'Italia ma non solo nel mondo finiscono le feste e Abuti invece ripartono sono infatti ripartite quest'anno dopo la pausa Covid e l'anno passato dopo aver fatto nell'edizione 2021 aver posticipato la manifestazione ad aprile ritorna con il consueto con la consueta data della terza domenica di gennaio quindi il palio di Santo Antonio Abate come sapete il santo viene glorificato il 17 di gennaio di ogni anno e il palio viene fatto la domenica successiva molti gli eventi in programma in questi giorni Abuti sabato poi la presentazione dei fantini e del mossiere e domenica la sfilata storica ed il palio le iniziative questa settimana sono state e sono tante sono partite sabato scorso con la cena itinerante che ha visto più di 4.000 persone riversarsi per il territorio di Abuti ed assaggiare quelli che sono i nostri piatti tipici è continuata con l'estrazione delle batterie e la messa solenne con la riconsegna del santo e questa settimana ci sono le varie iniziative in ogni contrada le messe in ogni contrada e il rinfresco fino a arrivare poi a sabato con la presentazione della corsa sempre nella piazza principale e domenica mattina la sfilata e poi alle 2 del pomeriggio inizia la corsa di cavalli sì l'anno passato è stato un po' faticoso perché avevamo alcune restrizioni dovute al covid e quest'anno ritorna con la manifestazione con tutte le sia iniziative ma anche l'organizzazione pre-covid c'è una macchina importante che è stata che è stata che sta è partita soprattutto l'allestimento del percorso come sapete il percorso del palio è su un rettilineo sulla strada principale del paese di lungo 740 metri e l'allestimento non è semplice non è semplice perché dobbiamo mettere in sicurezza sia gli spettatori gli animali che i fantini quindi le prescrizioni che ci arrivano dal ministero e dalle istituzioni da vigili del fuoco polizia ASL sono importanti e anche corrette proprio perché mette in sicurezza tutti coloro che poi si affacceranno e vedranno la corsa sono attese fino a 4.000 persone il tempo dalle previsioni meteo il fine settimana si prevede il sole quindi si prevede davvero un afflusso importante non solo i contradaioli ma anche tanti appassionati di corse di cavalli Siena e tanti senesi arriveranno mi dicono che gli affittacamere e gli agiturismi del nostro territorio hanno già il tutto esaurito quindi vuol dire che anche da fuori vengono davvero numerosi appassionati il palio d'inverno torna la prossima settimana grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata grazie per aver guardato